Mi meraviglia sempre la quantità di cose che riesco a fare quando sono di corsa, quando devo fare le cose in un certo lasso di tempo, che è sempre molto ridotto, riesco a fare tante di quelle cose che in altre condizioni faccio in tre volte tanto il tempo che ci impiego quando sono di corsa, o quando non ho tempo da buttare o da sprecare, che poi il tempo non è mai da sprecare, però quando non hai nessun particolare impegno e sai di poterti dedicare con più cura e più attenzione alle cose, tendi a dilatarle e dilazionarle e farle con più calma, perlomeno io, alzate la mano chi come me, colgo l'occasione di questo viaggio per prestare attenzione a questo meccanismo e capire cos'è che mi mette proprio in quella situazione di Pepe, ad esempio stamattina avevo tutto il tempo del mondo per fare le cose con calma, ma non l'ho fatto, ho preferito perdermi via in altre cose, che sono l'altro lato di quello che vorrei allenare e analizzare e capire in questo viaggio, che è il fatto di non concedersi momenti di svago, momenti di pausa, momenti di bellezza o semplicemente momenti pieni delle cose che più amo fare, perché sono impegnata in altro tipo lavorare, perché mi sono resa conto che non riesco a trovare un equilibrio, quando devo lavorare tendo a lavorare basta e a non concedermi neanche un momento di cose che solitamente amo fare e questo mi porta in un brutto posto, nel senso che mi porta in quello stato in cui arrivo a pensare di odiare il mio lavoro solo perché non mi concedo di fare le stesse cose che farei in condizioni normali, in cui magari non lavoro e quando mi posso permettere di fare le cose che amo con calma, quello che vorrei sperimentare e fare di più in questo viaggio è di cercare di fare quanto più possibile le solite cose che compongono la mia routine, le cose che amo fare, anche mentre lavoro, voglio allenarmi, voglio meditare, voglio mangiare le cose che mi piace mangiare, ricordarmi di chiamare una volta in più o mandare un messaggio in più alle persone a cui tengo e godermi anche i posti in cui vado. Tutto questo non è facile, non è assolutamente facile, nel senso che non è una cosa che ti viene naturale, soprattutto in questo tipo di lavoro, perché ci sono poi i momenti liberi, quindi quando stacchi dal lavoro o prima del lavoro in cui vuoi anche stare da sola con te stessa senza sentire necessariamente qualcuno, senza fare necessariamente qualcosa per cui fare tutte le cose che faccio di solito diventa un impegno, perché in realtà questa credenza che le cose che ci piace fare debbano essere facili da fare perché per alcuni aspetti e per alcuni aspetti è sbagliata, perché spesso dobbiamo correre un po' di più nel fare le cose che dobbiamo fare per ritagliarci il tempo per le cose che ci piace fare, spesso dobbiamo rinunciare delle cose per fare delle altre cose, quindi si tratta di lavorare sull'equilibrio, lavorare su questa bilancia che pesa sempre molto di più verso il lavoro piuttosto che verso le cose che mi piace fare. Comunque, sono diretta verso Verona, che sarà la mia prima tappa di questa settimana e ci starò per due giorni, conto anche questo viaggio nella mia permanenza a Verona e non so bene ancora quanto e cosa riusciremo a fare, però vorrei fare tante cose quante più riesco nell'asso di tempo libero che ho a disposizione che è molto molto risicato però cercherò di impiegarlo nel modo più efficiente possibile. Voi tra l'altro siete una di quelle attività che spesso taglio fuori quando sono in viaggio per lavoro perché non mi voglio sbattere troppo, adesso che analizzo bene le cose perché non è facile filmare mentre mi trasferisco da una parte all'altra motivo per cui adesso lo sto facendo dalla macchina, però non è impossibile, è un po' più difficile rispetto al solito, rispetto alle condizioni normali, ma non è impossibile. Questo video sarà il video delle inquadrature strane, in questo momento sono atterrata a Verona dico atterrata perché questa macchina che sto guidando mi sembra un bolide, è una Renault Capture è una macchina a noleggio e sarà la mia macchina per i prossimi due giorni in questo momento sono nel parcheggio del gigacentro commerciale all'uscita dell'autostrada Verona Sud per questo motivo non so bene come si chiama questo posto, devo andare a recuperare il pranzo e poi si va a lavorare, ho un appuntamento alle due e mi verrebbe da dire che devo correre ma in realtà di tempo ce n'è, ho ancora 40 minuti per mangiare e poi andare in questo posto che è letteralmente due minuti da qui. Sono le 21.34 e ho appena preso possesso della stanza guardate qua che bella stampa, sono in un hotel della catena che mi ricorda la mia vacanza più disastrosa di sempre l'hotel in casa è B&B Hotels, è una catena che c'è un po' ovunque e anche a Pisa dove sono stata quando ho fatto la vacanza tra via Reggio e quelle zone lì chi se lo ricorda il video lasciatemi qua un qualsiasi commento perché io quella vacanza ce l'ho ancora qua il ricordo è bello vivido ma lasciamo perdere quello che è stato vediamo quello che è perché questo è un hotel diverso la città è un'altra e a primo impatto non è lusso ovviamente perché è un hotel economico però ci sono delle cose anche positive partiamo dall'ingresso dall'ingresso c'è subito il bagno facciamo il check delle pulizie bene ma non benissimo qualche piccola sbavatura c'è per il resto è comunque elegantino un po' vintage in questo punto qui poi la prima cosa che non mi convince è questa porta qui perché sembra la porta di una stanza comunicante motivo per cui ho appoggiato la valigia contro la porta ma adesso andrò in reception e chiederò di confermarvi che questa porta è bloccata perché se no non dormo tranquilla poi abbiamo la stanza piccolo puff uno specchio letto molto economico una scrivania e una mini cabina armadio la tv e una bella vista sull'autostrada il casello yay comunque di positivo sembra ben insonorizzato non sento particolarmente il rumore della strada all'arrivo iscrivendomi al loro programma fedeltà ho potuto avere una colazione gratis e anche una bottiglietta d'acqua gratis l'ho presa volentieri di altro positivo c'è il parquet e non la moquette quindi fantastico questo specchio è meraviglioso ne vorrei avere uno così a casa tra l'altro non ho fatto l'outfit check con voi oggi sono partita super di corsa alla fine sto indossando il mio maglioncino verde i miei jeans i miei preferiti e le mie samba comoda ma allo stesso tempo chic effortless e mi permette di muovermi liberamente questi jeans ho scoperto tra l'altro che mia sorella le ha presi in tre gozze di cinesi ma io le sto amando alla follia cioè sono il mio jeans preferito in questo momento e mi sento male nel dirlo perché sono da sempre affezionata ai levis e adesso sto amando queste jeans qua comunque qual è il punto non ho ancora accenato vediamo se i miei compagni li ha perfetto ok si va a cena e purtroppo non sarò da sola purtroppo perché non posso parlare con voi per fortuna per me perché sarò in compagnia quindi magari scatto qualche foto della cena e ve la metto qui andiamo da Spiller che è una birreria però ho ispezionato il menù ci sono un sacco di opzioni gluten free e anche veg per cui perfetto a dopo eccomi di ritorno dalla cena trovare la stanza della mia collega è stata una vera impresa ok tornare alla mia stanza è stato impegnativo le luci non si sono accese sul corridoio mi sembrava di stare dentro un horror movie ma adesso sono in camera sto aprendo la valigia e mi sto preparando una tisanina si si schiacciano bene anche il tastino comunque continuo a non essere serena su quella porta lì dovrò fare un lavoro importantissimo su la mia psiche per riuscire a dormire ci aggiorniamo domattina buonanotte ah si la cena dimenticavo ho mangiato delle patate fritte con sopra le uova all'occhio di bue e delle verdure al vapore le verdure non erano proprio il massimo ma le patate con l'uovo erano ottime e per il resto la prima giornata finisce così quindi a domani buongiorno stanotte ho dormito malissimo e non per colpa della porta perché alla fine voi forse l'avrete capito subito ma io solo dopo ci ho pensato e ho realizzato che in realtà quella porta è sigillata perché anche quando è semplicemente chiusa a chiave perché non è venduta come comunicante c'è una maniglia e è una toppa qui invece manca proprio è proprio tutto sigillato quindi è completamente chiusa ma vabbè questo l'ho realizzato dopo e quindi non è questo il motivo per cui non ho dormito a parte questo stamattina sono riuscita a fare tutto in quantità più ristrette quindi 5 minuti di venditazione anziché 10 una pagina e mezza di libro anziché 10 e 10 minuti di workout però sempre meglio di niente ora sono pronta per andare a lavorare questo hotel rimane un no per me perché finché è per lavoro me lo prenotano ok ma no non ci siamo la doccia non scende nemmeno l'acqua si allaga tutta vabbè fanno del loro meglio penserò questo ci rivediamo stasera mi mancherebbe un sacco l'outfit è molto semplice sono in divisa quindi ho questa felpa questa magliettina e un paio di jeans le mie scarpette e sono pronta eccomi di nuovo da voi oggi giornatina intensa ma è finita ora mi sto mangiando delle fragole prese dal catering di oggi mentre sto organizzando la valigia l'outfit per domani che sarà identico a quello della partenza perché ho deciso che andrà così per comodità non sono riuscita a fare molto di quello che avrei voluto ma domani magari riesco a fare qualche ripresa in più oggi è stata appunto una giornatina intensa ho pranzato con un'insalatona confete verdure alle 3 poi la sera ho finito tardi sono andata via dopo le 9 e ora che sono arrivata in hotel erano le 9 e mezza ci ho provato a fare un delivery ma non sono riuscita a trovare niente che mi andasse bene perché quelli che potevano piacermi andami bene avevano una consegna di almeno stimate di almeno 50 minuti non mi sembrava proprio il caso altri invece avevano chiuso e così via e quindi sono scesa disperata per andare a prendermi un piatto pronto di quelli che vendono qua in questo hotel ma mentre scendevo siccome avevo appunto anche la borsetta per pagarmi la cena e dovevo andare comunque in macchina a recuperare il cavo dell'iPhone sono finita per salire in macchina e andare di nuovo da Spiller che è il posto dove ho mangiato ieri sera e stavolta ho preso delle patate al forno delle verdure grigliate e delle uova praticamente diventerò un uovo in questo viaggio prima o poi dovrò trovare un'alternativa ma in situazioni estreme va così fatto sta che ho fatto una riflessione mi sa che diventerò una snob di patate perché ovunque vado provo le patate e valuto un posto in base a come preparare le patate diciamo che Spiller è un 7 su 10 perché ci siamo quasi però alcune patate erano un po' crudine per il resto ho mangiato in realtà super bene e ho provato una bevanda di organics lime o qualcosa non lo so non mi ricordo più che così era fatto sta che tutto quello zucchero là mi ha dato alla testa e quando sono uscita mi sentivo ubriaca anche se non avevo bevuto alcolici comunque adesso cosa altro devo fare a parte preparare tutto per domattina in modo di essere pronta e magari fare un giro o fare qualche video devo preparare la nota spese o montare qualche video o andare a dormire direttamente intanto mi sto anche preparando la tisana per cui adesso farò tutte queste cosine qua e dovattina mi dedicherò un po' di più a voi buonanotte voglio farvi vedere una cosa che per me è tipo futuristica mi sto avvicinando alla macchina guardate si è aperta da sola per me questa è veramente una cosa dell'altro mondo comunque la macchina è questa è una Renault Capture e mi sono trovata bene nel senso che lo stile e la comodità ok motore non ci siamo non la prenderei mai buongiorno mi trovo già nella mia prossima tappa nella mia prossima destinazione perché stamattina non c'è stato molto tempo per fare troppe cose né per fare un giro praticamente il centro storico di Verona l'ho visto solo sul cartello che avevo attaccato al muro questo video alla fine sembra più un podcast che un video perché parlo soltanto vi ho fatto vedere poche cose ma questo è mi sono trovata in alcuni momenti a dirmi dovrei far vedere a loro qualche cosa di più interessante di più divertente ma questa è la verità questa è la realtà di me quando viaggio c'è tanto da fare e poco tempo libero e questa volta è andata così forse questi giorni che inizio adesso saranno diversi anzi quasi sicuro perché ho più tempo libero per cui chiudo dicendovi che questa mattina è iniziata un po' in modo difficoltoso perché non ho dormito di nuovo non so cosa mi ha preso però in quel hotel non ho dormito bene spero di dormire meglio in quello che avrò per i prossimi giorni la colazione mi ha delusa tantissimo perché volevo le uova ma c'era non si sa come dentro anche del Würstel e non doveva essercene e vabbè ho mangiato comunque bene yogurt frutta e frutta secca e poi ho passato una buona mezz'oretta a fare reel filmare reel con quello che avevo nella stanza di hotel e poi me ne sono andata via e basta questo è quanto per questo video ci vediamo nel prossimo ma fino ad allora mi raccomando prendetevi cura di voi ciao